Oggi vi portiamo una notizia bomba dal grande fratello. Siete pronti per nuovi colpi di scena? Ecco che fino a fine aprile, il reality ci regalerà emozioni sempre più avvincenti. Alfonso Signorini, il regista di questa intrigante opera della vita reale, ha deciso di sorprenderci con l'ingresso di una nuova concorrente dal passato televisivo importante. Stiamo parlando di Simona Tagli, ex showgirl e conduttrice televisiva di Spicco, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nella breve edizione dell'Isola dei Famosi. Giuseppe Candela su Twitter ha anticipato il suo ingresso, auspicando che avvenga già nella prossima puntata del 5 febbraio. Sarà un momento carico di emozioni e dinamiche intriganti. Il grande fratello, lontano dall'essere monotono, ha saputo mantenere alta l'attenzione del pubblico. Solo due concorrenti hanno dovuto abbandonare la casa fino ad ora, mantenendo il resto con il fiato sospeso. Stasera si decreterà il primo a rischio eliminazione, ma nessuno dirà definitivamente addio alla competizione. Simona Tagli, già attiva nel salottino web di 361 Magazine, ha dimostrato il suo interesse e coinvolgimento nel commentare le vicende del grande fratello. La sua presenza promette di influenzare gli equilibri nella casa e di portare nuova linfa alle dinamiche già avviate. Il grande fratello ci promette ancora una volta un mix irresistibile di intrighi, passioni e colpi di scena. Alfonso Signorini, con la sua abilità narrativa, ci guiderà attraverso questo affascinante mondo televisivo, rendendo ogni episodio un tassello fondamentale in questa straordinaria esperienza. Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri nei commenti. Se questo aggiornamento vi è piaciuto, mettete un pollice in su e continuate a seguirci su AMF Channel. Rimani con noi per tutte le novità sul Grande Fratello 2023. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie.